Ciao a tutti! Oggi prepareremo la maionese alla senape. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono olio di semi di girasole, senape, curcuma, limone, uovo e sale. Diamo il via alla ricetta. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo nel boccale l'uovo, il succo di limone, la senape, il sale e la curcuma. Chiudiamo con il coperchio il musulino e azioniamo il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4 versando l'olio sul coperchio. Grazie. 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 La maionese è pronta. Trasferiamola in una ciotola o in un contenitore e riponiamola in frigo per 30 minuti prima di utilizzarla. Maionese alla senape. Ideale per condire carne, pesce o per insalate di pasta. Si conserva in frigo per 3-4 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.